Nell'ambito di cinque palazzine occupate quattro da una comunità di Bulgari, una da senza tetto italiani, abbiamo individuato dei soggetti positivi. Sono 49 i contagi nella comunità bulgara di Mondragone, situata nell'area ex Cirio della città casertana e diventata zona rossa dalla regione Campania dopo lo scoppio del focolaio. Dopo la fuga dalla zona di alcuni dei cittadini risultati positivi al Covid, la situazione è diventata ancora più complicata con la rivolta di ieri pomeriggio. A Mondragone ci sono stati momenti di caos quando alcuni cittadini italiani hanno tentato di entrare nella zona rossa, però fermati dalla polizia, e dai palazzi zona rossa è partita una sedia verso i manifestanti. I risvolti non sono stati positivi, con pietre lanciate e auto bulgare andate distrutte. Dal Ministero dell'Interno intanto sono arrivati 50 militari dell'esercito italiano per rafforzare la vigilanza nell'area interessata dalla rivolta. Una vicenda non facile da gestire che ha visto l'intervento decisivo del governatore della campagna Vincenzo De Luca, che ha parlato di zona rossa per l'intera Mondragone in caso del raggiungimento di 100 contagi, nell'operazione di screening che sta attuando l'ente regionale, ed ha invitato a mantenere alta l'attenzione per gli immigrati fuoriusciti dall'area sottoposta a chiusura. 4 o 5 bulgari, dichiara De Luca, sono scappati verso la piana del Sele. Perché la nottata scorsa 4 o 5 se ne erano scappati ed erano arrivati nella piana del Sele. Questo non deve succedere mai più. Queste palazzine devono essere blindate, non esce nessuno. Le forniture alimentari e mediche le deve garantire la protezione civile, in maniera che stiamo tranquilli.